Sono Fabio Ferretti della Pallamano Secchia Rubiera, ieri abbiamo giocato con la nostra squadra di Serie 2, la Pallamano Secchia Rubiera, abbiamo perso, non abbiamo giocato una bella partita, penso che questo progetto sia molto importante per noi ragazzi perché ci permette di giocare con squadre di livello superiore al nostro e con più esperienza e dopo due raduni ci sono visti alcuni miglioramenti, oggi speriamo di fare una prestazione migliore rispetto a quell'anni.